La temperatura tropicale non ha fermato i lavori presso il campus dell'Università di Camerino. Proseguono infatti senza sosti i lavori di urbanizzazione e posi in opera della zona che ospiterà il nuovo studentato donato dalle province autonome di Trento e Bolzano per un totale di 457 posti dedicati agli studenti Unicam. Come più volte annunciato la consegna dei primi 150 posti è prevista entro la prima metà di ottobre dei rimanenti 307 posti entro il 31 dicembre. Gli studenti Unicam inoltre potranno usufruire anche dei nuovi alloggi che completeranno a valle il campus esistente. La costruzione e l'ampliamento degli alloggi si inserisce nel piano di sviluppo che Unicam sta portando avanti. Infatti sono già iniziati i lavori nell'area che ospiterà uffici, aule e laboratori e saranno adiacenti ad un nuovo polo per l'innovazione con laboratori di ricerca moderni e all'avanguardia.